25 anni in attesa per approvare la lista perché vogliamo dare una maglia proprio per capire un attimino i nostri problemi lo aspettiamo il 28 settembre e tra le persone nominate qualche giorno fa 2000 sordi presenti in piazza e spero che Matteo tu sei con noi un grazie di cuore Matteo! 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 Matteo!